bentornati a detto fatto ciao da valentina e da fabrizio allora fabri oggi per halloween creiamo delle lanterne con i bicchieri di plastica come questi qua vogliamo farli abbiamo bisogno di bicchieri di plastica di pennarelli indelebili e di queste mini candele allora innanzitutto disegniamo le facce di questi mostri che abbiamo deciso di creare questi sono i volti dei nostri mostri adesso mettiamo all'interno delle nostre lanterne le candele queste sono le nostre lanterne ultimate provateci anche voi per halloween sono molto carine ci aspettiamo alla prossima puntata di detto fatto